la roma vince contro il genoa questa partita di serie di oggi 7 marzo 2021 vigilia della festa delle donne che ci sarà domani 8 marzo la roma vince la roma ottiene una meritata vittoria nel ben impaginato mondo calcistico una roma di splendore totale di splendore assoluto nonostante un solo gol che è stato segnato che è stato messo a segno la vittoria giunge nelle mani proprio di questa formazione calcistica della s roma sportiva a segnare l'unico gol è stato il grande gianluca mancini nel primo tempo vi ricordo infatti che ha segnato al 24esimo minuto di gioco il ritrovato splendore la forma fisica smaiante fanno sì che la roma riesca a vincere questa partita un ritrovato garbo una ritrovata capacità uno spirito equilibrato riescono a proporsi in maniera perfetta e al tempo stesso più che gradevole complimenti dunque alla roma di fonseca il video termina qua noi vogliamo vedere questa roma noi tifosi o meglio gli eventuali tifosi secondo me vogliono vedere una roma che vince che stravince e che tiene e contiene una vittoria meritata da reandro narratore di un numero tutto iscrivetevi al canale al prossimo video